A gancio riuscito, l'USB Tonto riesce nell'impresa, davanti al suo pubblico, di sconfiggere in rimonta la capolista Gallipoli per due reti a uno e diventa la nuova leader del campionato di eccellenza proprio insieme alla formazione salentina. Mister Zinfollino per vincere la partita si affida al tridente composto da Moscelli, Manzari e Modesto. Primo tempo di studio tra le due squadre con poche palle e gol. Ad andare vicino alla segnatura è il bitonto con Moscelli che servito da Manzari fa partire un destro a giro terminato sul fondo. Al diciannovesimo minuto si vede il Gallipoli con Mingiano che trova la via della rete ma l'arbitro non concede il gol per fuorigioco. Verso la mezz'ora, Terrevoli dopo una finta sul difensore mette la pala in mezzo per Manzari che per un pelo non riesce a tirare in porta. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 e entrambe le squadre non rischiano la giocata vincente. Si passa così alla seconda frazione di gioco e si assiste ad una partita completamente diversa da quella che si era vista nei primi 45 minuti. Il Gallipoli è più incisivo e riesce a trovare la rete del vantaggio al 58esimo minuto su calcio di punizione battuto da Scialpi. La traiettoria complice anche una deviazione sorprende a Dario. Due minuti più tardi il Gallipoli attacca ancora. Jurato prova il tiro che viene respinto da Dario. Sulla ribattuta va Mingiano che si divora il gol del raddoppio. Al 65esimo minuto viene battuta un'altra punizione per il Gallipoli. A calciare è sempre Scialpi che cerca la doppietta ma Dario questa volta respinge la sfera. Dalla parata di Dario il Bitonti incomincia ad attaccare andando vicino al gol prima con Manzari servito da Bonassia poi dà calcio d'angolo con Moscelli che mette la palla in mezzo per Camasta ma Passaseo gli renega la gioia dell'aggancio. Al 71esimo minuto arriva il pareggio meritato dei Neroverdi con il colpo di testa di Terrone su assist di Modesto. A nulla serve il bel gesto tecnico di Passaseo. All'ottantesimo minuto Modesto cade in area di rigore e l'arbitro decrete il penalty per il Bitonto. Dal dischetto si presenta Moscelli che non sbaglia portando il Bitonto in vantaggio per due reti a uno. L'attaccante di Neroverdi allo scadere si becca il secondo giallo e lascia i suoi in dieci uomini. Nonostante l'inferiorità numerica però i padroni di casa resistono nei minuti di recupero e conducono in porto la preziosa vittoria. La prossima settimana il Bitonto se la vedrà sempre in casa contro la Vigortrani terza in classifica mentre il Gallipoli affronterà l'Atletico Viest. Grazie.